Prosegue la collaborazione tra Avis Barletta e ASLBT nel monitorare la salute dei donatori. Dopo il controllo del cuore è stata avviata un'iniziativa per la verifica dello stato di benessere della tiroide dei donatori di sangue Avis Barlettani. La tiroide è una piccola ghiandola che svolge funzioni fondamentali per la salute. Controllare la funzionalità della tiroide significa assicurarsi del corretto svolgimento di funzioni fondamentali come le attività metaboliche, la funzione cardiovascolare, l'accrescimento delle ossa, la forza muscolare, il tono dell'umore, la fertilità e tanto altro ancora. L'iniziativa concordata da Avis Barletta con la direzione generale e la direzione sanitaria dell'ASLBT prevede che i donatori di sangue che effettueranno una donazione di plasma dal giorno 1 al giorno 17 novembre presso il servizio immunotrasfusionale del presidio ospedaliero di Barletta verrà eseguito un controllo della funzionalità ed ecografico della tiroide con esecuzione del dosaggio ematico del PSH. Presso la sede dell'Avis Barletta in via Milano 73 il giorno 18 novembre 2023 sarà fatto il controllo ecografico della tiroide e i donatori di sangue Avis Barletta che nei giorni precedenti avranno effettuato una donazione di plasma. L'esame ecografico verrà eseguito da parte di alcuni medici radiologi dell'ASLBT che volontariamente presteranno la loro opera professionale grazie anche alla collaborazione dell'azienda Philips che ha gentilmente concesso l'utilizzo gratuito delle apparecchiature ecografiche. Il controllo combinato del PSH e dell'ecografia tiroidea permetterà di fare uno screening della malattia ed accertare lo stato di salute della tiroide fornendo un ulteriore elemento di valutazione dello stato di benessere dei donatori di sangue Avis Barletta. L'associazione e l'ASL invitano quindi tutta la popolazione dei 18 e 65 anni ad eseguire una donazione di plasma con un piccolo gesto di solidarietà che permette di salvare la vita a tante persone.